Bella a tutti ragazzi siamo su crescere royale questa potrebbe essere la cosa più epica che mi sia successa ragazzi probabilmente se il gioco non mi trolla non mi prende in giro ragazzi c'è la leggendaria ragazzi c'è la leggendaria andiamo forse ragazzi c'è la leggendaria mi ha dato poco oro ok solamente due gemme una rara una comune ragazzi o c'è l'epico c'è la leggendaria ragazzi la principessa l'ho chiamata la principessa ragazzi si la principessa e siamo a tre leggendaria ragazzi non ci credo voglio voglio 100.000 like 10.000 like 20.000 like ragazzi la principessa ma dai ragazzi la principessa dai me lo sentivo 4 funzioni ragazzi me l'ha fatta trovare la principessa me l'ha fatta trovare il gioco e andiamo me lo sentivo ragazzi la principessa e qui va essa